Musica Salve a tutti, noi di De Concretezza siamo qui con il consigliere della città metropolitana di Napoli, Luciano Borelli, consigliere, un suo pensiero sulla nostra associazione, sui progetti che vogliamo portare avanti, sulle iniziative, un suo pensiero a riguardo? Innanzitutto buongiorno a tutti, oggi è il momento particolare dei giovani che tutti i giorni assistiamo a delle situazioni scabrosi, spari e quantomeno, trovare dei giovani che si danno al sociale è qualcosa di difficile, io su questo vi sento di ringraziarvi e ricordatevi una cosa, per quanto mi riguardi io sia come persona e sia come consigliere della città metropolitana mi trovate sempre a vostro fianco, perché De Concretezza, questa associazione dice tutto nel suo nome, voi siete ragazzi che io vi conosco bene, so le vostre idee, so le vostre intenzioni, so i vostri valori, quindi è un ringraziamento che faccio direttamente a voi, trovare come ho detto prima delle persone che si danno all'ambiente, alla cultura, all'educazione così come avete voi scritto nel vostro post è difficilissimo, io ci sarò sempre per voi e vi ringrazio per tutto quello che fate, anche quello di stamattina, questa raccolta giocattoli per i ragazzi oncologici, non è da tutti, voi sarete da esempio per noi un poco più grandi, noi dovremmo essere all'inverso, noi dovremmo essere da esempio a voi, invece oggi io trovo in voi giovani un esempio per noi un poco più anziani, grazie per quello che fate. Grazie per la visione, grazie per la visione!